Una cerimonia sobria con la partecipazione delle istituzioni per salutare per l'ottavo anno consecutivo la bandiera blu a Margherita di Savoia. Tradizionale alza bandiera sul lungomare, sulle note del lino di Mameli, presenti anche il prefetto di BAT, Maurizio Valiante, il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, e la senatrice Licia Ronzulli, originaria di Margherita di Savoia. Assieme a loro c'era anche il comandante della direzione marittima della Guardia Costiera di Bari e le altre autorità militari, nonché i sindaci del comprensorio Fantino. La Puglia ha fatto passi da gigante soprattutto sulla depurazione delle acque, perché vi ricordo che la bandiera blu è un premio che viene dato anno per anno alle città che nel corso dell'ultimo quadriennio si sono distinte nella materia ambientale. L'Acquedotto Pugliese e la regione Puglia hanno dato una mano quindi soprattutto per la qualità dell'acqua, però gli altri parametri, il decoro urbano, la raccolta differenziata, una buona gestione del turismo, ecco tutti questi elementi fanno parte di un premio che Margherita di Savoia assieme ad altre 16 città pugliesi si sono guadagnate. La Puglia è una delle regioni italiane con il maggior numero di bandiere blu ed è ovviamente una delle poche regioni adriatiche ad avere un numero così consistente, perché notoriamente l'Adriatico è un po' più complicato del Tirreno dal punto di vista ambientale. Noi grazie, ripeto, alla depurazione dell'acqua abbiamo fatto un buon lavoro, ma sono i sindaci che hanno tirato su le loro città e le hanno cambiate e questo è molto importante. Bernardo Lottispoto è un grande sindaco, un grande presidente di provincia, è un amico caro e quindi anche in questo momento così difficile a causa del covid abbiamo passato insieme in momenti molto difficili e ringrazio tutti i sindaci della BAT qui presenti per l'aiuto che mi hanno dato, sono riusciti ciononostante a preparare bene la città per la stagione turistica.